Sono 12 punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per lunedì 11 marzo alle ore 18. Fra gli argomenti oggetto di discussione, le mozioni presentate dalla minoranza relative alla questione dei casoni d'oria e dall'istituzione di una sezione del sito istituzionale dedicata alla pubblicazione dei dati sulle emissioni degli impianti che trattano rifiuti. A ciò si aggiungono alcuni debiti fuori bilancio, pari ad un importo totale di 40.000 euro. A chiudere il nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio dei ragazzi.